bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi dove siamo oggi ragazzi voglio provare insieme a voi per la prima volta questo giochino per android che mi è sembrato molto molto interessante si chiama mobile legends bang bang praticamente ragazzi è un gioco uno sparatutto uno knuckle slash chiamatelo come volete un gioco di combattimento 5 contro 5 andremo ragazzi in ambientazioni fantasy in 18 mappe diverse per andare a combattere contro altri team in tempo reale quindi giochiamo contro giocatori veri ma non è finita qua ragazzi oltre a fare il team versus team potremmo anche giocare con la nostra squadra per andare a sviluppare ea compiere delle missioni dentro altre aree di gioco non ho la voce mai mi dispiace che con questa ambientazione fantasy si dimostrano veramente veramente molto divertenti proviamo proviamo assieme ho visto i gameplay scegli un nome xuder youtube italia ovviamente conferma se ha dentro se ha dentro attenzione ragazzi attenzione sembrava di no e invece siamo entrati per dare un occhiattino intanto che metto un po di sound così lo sentite anche voi il sound del gioco sta caricando 100% siamo attenzione simone è cattiva la tipa oh miseria porca vacca ha preso un cannone ha preso un cannone ragazzi welcome to mobile legends welcome to mobile legends i your humble servant venuto su mobile legends in questa fase inquadrerai alcune mosse base usate nei giochi popa sei pronto sono pronto dai che abbiamo compro l'equipaggiamento e vai in battaglia fermi tutti che lei mi deve dare guardalo già l'uasd settato guardalo l'uasd settato ecco giuda ma questo si usa senza mouse questo si usa così si usa ok ok easy si usa così fammi attivare fammi attivare sono disattivato allora compra l'equipaggiamento e vai in battaglia se c'è il suo di volo prova a scorrere il joystick il vito il vito capito se tu potessi andare dall'altra parte grazie signorina vedo un po' stitica usa il tuo attacco di base per occuparti di loro fermi tutti fermi tutti il mio attacco di base è la barra spaziatrice capo un minione ucciso tanta roba tocca a qui per imporare la prima abilità tocca per lanciare la prima abilità dell'abilità tasto H per l'abilità ragazzi tasto H così proprio di prepotenza l'abilità grattivissima la seconda abilità la stiamo già comprando tocca per lanciare la seconda abilità sarebbe tasto J la seconda abilità quindi H c'è il suo onzo hai abbastanza oro compro un altro pezzo di equipaggiamento uniale 10% velocità di attacco easy easy per migliorare la seconda abilità viene anche capito quale siamo lo stiamo già migliorando ragazzi bene così a migliorare la roba cosa starebbe sta roba purca vacca quanto è quest'area un void projectile spara una palla di energia che esplode in piedi di un bersaglio nemico il fisico 200 più 111 di danno fisico al bersaglio i nemici vicini io ho 360% bra 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 dai che andiamo dai che andiamo signorina signorina il problema è guidare la signorina ragazzi non capisco allora il Wast sembra essere messo bene non capisco perché non funzioni altrettanto bene ok ci siamo ci siamo già perfetto perfetto adesso il Wast è a posto no sono spostato spara gli spara gli spara gli spara gli spara gli e così ragazzi tocca così per imparare l'ultima abilità ragazzi ce n'è un'altra ce n'è un'altra ragazzi attenzione quella scusa con la K HJK HJK perfetto perfetto moviti verso il bersaglio sto capendo le dita da come le mettere ragazzi wow wow andiamo a distruggere così distruggi la base nemica e reclama la vittoria devo reclamare assolutamente la vittoria devi la vittoria Sprozzi spara di là spara di là però non spara di là non spara c'è il governo spara di là no e vabbiamo a mancare di brutto ragazzi andiamo a mancare di brutto allora così perfetto spara di là abilità in recupero andiamo con l'altra perfetto come vedete ragazzi a destra poi abbiamo anche l'attacco principale abbiamo l'attacco principale ma lo dimentico sempre che ce l'abbiamo possiamo anche migliorare le abilità ragazzi vede così andiamo 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 a distruggere la tower pulito pulito ragazzi fin qua tutto facile VIKTORY molto bene faccio lo scrinello del VIKTORY non si sa mai tre tasti puliti HJK io lo sto giocando da BlueStack ragazzi ma è un gioco per Android ovviamente saliamo già prepotenti di livello molto bene continuo aia XenoLiUV MOVOP grado battaglia settimana 0 su 7500 premi 4000 più 200 punti esperienza molto bene eeeh we can do it che gli fanno dai che andiamo ragazzi dai che andiamo cosa sta succedendo qua sta scaricando della roba conferma conferma non si capisce congratulazioni per aver terminato il nostro tutorial base teniamo lente l'abilità che hai appena imparato andiamo al prossimo livello il tutorial della battaglia reale assolutamente necessito di andare a vedere la battaglia reale ragazzi non mi raccomando vi raccomando ragazzi di non dimenticarvi di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video commentate sotto qua fatemi sapere cosa ne pensate di mobile legends vi piace? non vi piace? secondo me è tanta roba ragazzi secondo me è tanta tanta roba se non si inchiodasse non sappiamo non si inchioda questo non si inchioda ragazzi zilong come dal tutorial avanzato per trovare l'eroe permanente benvenuti a mobile legends ma dal lì lì abbiamo avuto ancora la battaglia 5 vs 5 questo è il massimo subiettivo al punto di uno strumento uccidere lì la mappa di gioco facendo tre corsie di attacco lo sapevamo distruggiamo lì 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 qui ci vuol dire attacco tocca per vedere l'equipaggiamento vario eeeh quanta roba si sta prendo qua ragazzi quanta roba sono davanti io con la mia testa però qua niente allora qua proprio potenziamo rischio che abbiamo potenziato ragazzi scegli quale percorso dove vuoi andare vieni qua vieni qua ci siamo ragazzi ci siamo siamo partiti siamo partiti attenzione seconda battaglia siamo in 5 squadra 2 abbiamo un rigenera e un recall fermi tutti fermi tutti cos'è questo rigenera e questo recall no mi interessa questo v v n v e b ok 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 no no salva 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 v e b sono rigenera e recall perfetto perfetto non so cosa voglia dire ragazzi ma va benissimo lo stesso attenzione a oh che casino c'è là che cosa stiamo facendo a sparare così andiamo a sparare andiamo a sparare andiamo a sparare non ci possiamo fermare non ci possiamo fermare no no i grandi spari sbagliati grandi spari sbagliati non trovo questa cosa andiamo a sparare sulla torre andiamo a sparare sulla tower ragazzi prova 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 abbiamo un eroe che ci sta aiutando gg eroina gg eroina abilità di recupero andiamo a stare sopra grande distròi le torre molto bene molto bene ragazzi qua andiamo a prenderci seconda abilità oh vai oh vai aia notifica usa le attacche in basse per aggiungere la 3d ma se vi sei nel minimo di ricevere il danno alle torri ok scusami 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 c'è l'eroe c'è l'eroe stazione è il ripeto tu hai sceso un pericolo grande grande dai heraus forza ragazzi andiamo alla torre andiamo alla torre ragazzi vai a sparare andiamo 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 a sparare e ci sta oddio c'è un eroe c'è un eroe e in quanto si può il maialone, il proprio maialone, battere, battere, oh mia le, per se non vai dove, lasciamo il video, lasciamo il video, poi dentro, dai dai dai, vai a distruggere la torre, dai a distruggere la torre ragazzi, bene così, ci siamo, ci siamo, qua prendiamo anche l'ultima abilità ragazzi, attenzione, abbiamo un rigenera, ok, perfetto, perfetto, oh c'è quanto io ho sparato quello, oh quanto male mi sto facendo, oh giù l'eroe, bene così giù l'eroe ragazzi, un l'eroe, sta dicendo, c'è un altro eroe infame, c'è un altro eroe infame ragazzi, bel sito, bel sito per l'eroe infame, mi dai il recupero, andiamo a colpire, andiamo a colpire, non capisco niente, non capisco niente, stiamo sparando la torre ragazzi, posso poter intanto, l'attacco migliorata, e andiamo a chiuderla, e andiamo a chiuderla ragazzi, ok, pulito, victory, molto good, molto good ragazzi, ci può stare, ci può stare ragazzi, saliamo di grado con la battaglia, c'è un bel scrinello, non si sa mai, vediamo cosa succede cliccando su continua, dopo le battaglie il sistema tratta automaticamente le medaglie, colleziona un certo numero di medaglie per aprire gli scrigni d'oro, c'è stato eccellente nel tutorial, ecco il nuovo eroe, Zilong, è arrivato Zilong ragazzi, è arrivato Zilong il pazzo, vede così, vede così, no, non voglio giocare, non voglio giocare, beh ragazzi, questo era semplicemente il primo video di Bang Bang MOBA, del Masachama, Mobile Legends MOBA, Mobile Legends Bang Bang, io spero che fino a qua ragazzi vi sia piaciuto, fatemi sapere, importantissimo qua nei commenti, come vi è sembrato ragazzi, che voglio proprio la vostra opinione, io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto, ciao!